Sotto il porticato del cortile di una scuola, Cornelia dirige le prove del suo gruppo musicale, il baluru. Malgrado la gioia e la spensieratezza che trapelano dai volti di questi adolescenti, tutti loro sanno che queste danze, nate per la maggior parte all'epoca della schiavitù, sono forse insieme al colore della loro pelle il legame più forte con le loro radici africane. La lirol, il grage, il casseco, il camougue, sono tutte danze originarie della nostra terra, forse con alcune influenze venute da fuori, ma fondamentalmente sono danze locali che vengono ballate solamente nella Guiana. Tutte le nostre danze sono un retaggio delle danze francesi, di quelle inglesi, eccetera. Il Labassu si ispira alle danze africane, perché come saprete durante la colonizzazione abbiamo avuto africani, gente proveniente da Saint-Lucien, dalla Manica, eccetera. E ognuno ha portato con sé le sue tradizioni, che nel tempo hanno forgiato le nostre tradizioni. Per noi è stato un arricchimento. Lasciamo Cayenne al ritmo dei tamburi e risaliti al bordo del nostro... Grazie.